Un benvenuto agli ascoltatori da parte di Biagio Mannino. Sono ormai due mesi che la guerra in Ucraina sta producendo tutti i suoi effetti, devastazione e morte, come tutte le guerre che si sono viste nella storia dell'umanità. Effetti drammatici e che riportano l'Europa ad essere al centro dell'attenzione proprio sotto questo punto di vista. Una guerra europea viene definita, l'Europa che ha mostrato sempre tradizionalmente grandi contrapposizioni e appunto grandi guerre. Ricordiamo quanto accaduto nel corso del Novecento, a partire dai primi anni, nel 1914, la grande guerra, per poi arrivare alla seconda guerra mondiale ma diventare anche lo scenario principale di quella che è stata definita la guerra fredda e poi gli anni 90, gli anni della guerra in Jugoslavia che ha portato a coniare un nuovo termine, il cosiddetto concetto di balcanizzazione, ovvero la polverizzazione di uno Stato. Ebbene, come detto, l'Europa, l'Europa che vive questa situazione, questa situazione drammatica e tragica, era il mese di maggio del 2022 quando 100.000 soldati russi e le più moderne tecnologie militari venivano portate a confine con Donbass. La questione quindi era chiara e poteva essere affrontata forse in modo migliore attraverso le vie diplomatiche, ma tutto ciò non ha prodotto i risultati sperati e gli effetti li stiamo vedendo proprio in questi giorni. Una guerra europea che sta portando ripercussioni, ripercussioni ovunque, nel contesto europeo in particolare perché di fatto ha messo in evidenza la debolezza dell'Unione Europea, soprattutto nelle relazioni ad Occidente, ovvero con gli Stati Uniti. Il granaio d'Europa rappresentato dall'Ucraina potrebbe portare la stessa Europa ad avere in prospettiva una situazione di emergenza se non addirittura di crisi alimentare. Il mercato americano diventa assolutamente fondamentale proprio per gli approvvigionamenti alimentari nel contesto europeo, ma qui c'è il problema, ovvero quella volontà, ovvero quella contrapposizione che con gli Stati Uniti si è sempre mostrata in relazione agli OGM. Gli OGM che in Europa non sono contemplati a differenza del contesto americano, che in questo caso vedrebbe sostanzialmente il prevalere della propria linea nel contesto europeo che dovrebbe andare ad adottare una nuova normativa proprio per favorirne l'importazione. Insomma aspetti che mettono in evidenza la debolezza di uno Stato che contemporaneamente però questa guerra europea sta producendo effetti nel contesto globale. Rivista in calo le previsioni di crescita nel contesto giapponese che vanno a imporre sostanzialmente una rivisitazione di tutto quello che riguarda il progetto di aumento del potere d'acquisto delle famiglie giapponesi, un aspetto di non poco conto che comunque in ogni caso mette in evidenza come i problemi e gli effetti della cosiddetta guerra europea ormai si vedano in tutto il contesto globale. Per oggi questo è tutto.